Una cerimonia diversa dalle precedenti, caratterizzata dal rispetto delle regole anticontagio, ma non per questo meno sentita ed emozionante. I vigili del fuoco, nonostante la pandemia, hanno reso omaggio alla patrona Santa Barbara. Nell'occasione il comandante Michele Di Tullio ha tracciato il bilancio dell'anno che sta per concludersi. È stato un anno più o meno simile agli altri, siamo sui 3.600 interventi, abbiamo notato un calo per fortuna degli incidenti stradali, siamo circa al 30% in meno, però le altre attività hanno proseguito il loro iter, il corso normale, soprattutto la prevenzione di incendi. Quest'anno abbiamo anche la fortuna di avere dei ragazzi che sono appena entrati nel corpo nazionale, quindi li stiamo addestrando. È sottolineato le difficoltà che quotidianamente incontrano i vigili del fuoco nello svolgere il loro servizio, reso ancora più difficile dal rischio contagio. È subentrata un po' di timore perché chiaramente quando si fa l'intervento, faccio un esempio stupido, un'apertura a porta, non sappiamo se la persona che è all'interno è positiva o meno e quindi per fortuna abbiamo il supporto dell'ASL prima della regione che ci forniva l'elenco di queste persone, però dobbiamo andare con i piedi di piombo e quindi dobbiamo adottare tutti i dpi che normalmente utilizza l'ASL. La benedizione della Santa Patrona eseguita dal Vescovo di Campobasso Giancarlo Maria Bregantini con la presenza del prefetto Maria Guia Federico e del solo personale in servizio. Momento particolarmente toccante la consegna degli encomi a Fabrizio Pece e Luca Mancinelli, giovanissimi del capoluogo di regione che a ottobre salvarono dalle fiamme un disabile che era nella sua abitazione. Noi eravamo appena scesi in campo perché dovevamo fare allenamento, ad un certo punto sentiamo delle urla provenire da una zona non molto lontana dal campo e insieme ai nostri dirigenti ci piombiamo sul posto, cerchiamo di capire più o meno le urla da dove provenissero e io e il mio amico ci siamo guardati e in un istante abbiamo scavalcato il cancello perché lì c'era un cancello chiuso col lucchetto e ci siamo piombati sulla casa e da lì provenivano le urla di questo signore che era in pericolo, noi senza pensarci due volte siamo entrati dentro la casa con una maglia avvolta sul viso per proteggerci dalle fiamme e dal fumo e l'abbiamo portato in salvo, poi abbiamo cercato di domare il fuoco con un po' dell'acqua e abbiamo aspettato l'intervento dei vigili del fuoco. Da parte nostra c'è tanta soddisfazione, siamo fieri, il nostro gesto ci parte dal cuore poi anche grazie all'insegnamento dei nostri genitori che ci hanno insegnato sempre l'amore verso il prossimo, è certo un qualcosa che ci porteremo per il resto della nostra vita.